Ciao a tutti oggi prepareremo le uova strapazzate. Il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa. Gli ingredienti sono parmigiano, burro, uova, latte, sale e pepe nero. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta intendo all'interno del boccale il burro e lo facciamo sciogliere per tre minuti. 100 gradi, velocità 1. Adesso aggiungiamo le uova, il latte, il sale, il parmigiano e il pizzico di pepe. E azioniamo il bimbi per 20 minuti. 90 gradi, velocità 2. Le uova strapazzate sono cotte. Andiamo a impiattare. Uova strapazzate, grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.